Buongiorno, come state? Oggi, visto che è appena suonato il mezzogiorno, l'Angelus, vi recito la preghiera dell'Angelus che il Papa recita ogni domenica al mezzogiorno, così anche voi, quando volete, potete fare questa preghiera in casa e in famiglia, che è molto bella. L'Angelo del Signore portò l'Annuncio a Maria. Ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo ci fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo donna loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amin. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amin. Questa è la preghiera che possiamo sempre recitare ogni giorno. In più, dato che siamo sempre dietro a sentire notizie non tanto belle, questa mattina mi è arrivata una notizia bella di una nostra parrocchiana, di una nostra amica, che si chiama Tosi Gloria. E allora ve la leggo perché vi farà piacere anche a voi. Ciao Don, sono la Tosi Gloria. Volevo darti una bella notizia, soprattutto in questo momento di preoccupazione generale. Ieri, 8 marzo, alle 14.37, è nata la nostra Viola. Abbiamo dovuto fare l'induzione sabato alle 19 perché i valori del mio fegato non erano belli e non c'era altra soluzione. Così mi sono trovata un po' spiazzata e preoccupata per il parto, eccetera. La stessa sera i miei mi hanno inviato il video della Santa Messa e qua volevo ringraziare te e la Divina Providenza perché mi hai dato, come sempre, la speranza e conforto e tanta carica per affrontare un momento così delicato. Le tue parole sono sempre azzeccate, adesso qui esageriamo, però accettiamo. Allora, sono sempre azzeccate e come le canzoni, per esempio Ma non avrei paura, ho chiesto al Signore di starmi vicino e così è stato. Sotto ogni aspettativa delle ostetriche è stato un parto velocissimo, non dico in dolore, ma ce la siamo cavata molto bene e poi quando è nata la piccola, mentre la allattavo, ci hanno inviato un altro video. Lì non mi ero ancora reso conto di non avere ringraziato il Signore, per cui abbiamo recitato le preghiere insieme a te. Anche se in questo momento non possiamo vederci, volevo ringraziarti per la tua presenza costante nella vita di tutti noi. A volte mi chiedo dove sarei se non avessi ascoltato te in tante occasioni. Ragazzi, ricordatevi. Un forte abbraccio e ancora grazie per non lasciarci mai soli. Dato che le chiese rimarranno aperte appena usciamo dall'ospedale, ti veniamo a trovare. Gloria, Gaetano e la piccola Viola che aspetta di ricevere il più presto il Santo Battesimo. Ecco, mi sembra una bella cosa questa. Io ogni giorno vi terrò aggiornati sulle belle e buone notizie. Intanto, buon pranzo, state bene, buona giornata e non perdiamo mai la speranza. Ciao a tutti! Ciao a tutti!